Salve a tutti, eccoci qui oggi ritornati con la nostra rassegna stampa settimanale, un appuntamento nel quale vi percorriamo tutte le principali notizie dei dintorni dell'agricoltura e dell'agromeccanica. Come ogni volta vi ricordo che questo comodo riassunto settimanale può arrivarvi comodamente a casa vostra. Mi chiederete come? Beh, una volta utilizzavamo dei piccioni viaggiatori. Ora ci siamo evoluti e basta cliccare il primo link in descrizione per iscriversi alla newsletter e ricevere una nuova mail riassuntiva ogni lunedì. Che è una cosa comodissima, cioè almeno molto più dei piccioni, ecco. La settimana scorsa ci siamo lasciati con una guerra che diventava sempre più plausibile. E beh, quest'oggi invece la guerra è una solida realtà costruita attorno a noi e com'è una solida realtà costruita attorno a noi l'aumento dei prezzi delle materie prime agricole. Il 24 febbraio, dopo l'invasione della quale ormai tutti conosciamo ogni virgola perché è stata raccontata ormai eccessivamente sui social, il grano ha registrato un più 5,7%, raggiungendo i 9,34 dollari a bushel. Un livello mai toccato dall'epoca delle guerre per il grano che si sono verificate nove anni fa in molti paesi del Nord Africa. In tutto questo, rende noto col diretti, la soia si trova al suo massimo storico dal 2012 mentre il mais è già da otto mesi che ha raggiunto il suo massimo storico e piove anche sul bagnato perché la guerra colpisce i due peggiori paesi che poteva colpire per quanto riguarda l'economia e le importazioni italiane. Infatti noi importiamo il 64% del grano per biscotti e pane che ci serve e il 53% del mais per alimentazione degli animali, di cui il 20% proviene proprio dall'Ucraina. C'è poi la Russia e lo sappiamo tutti qual è il problema più grande con questo paese il gas e il petrolio che hanno raggiunto prezzi mai visti ma non c'è fine al peggio cari miei, infatti anche i concimi, già cari dopo le prime tensioni raggiungono un più 170%. La filiera dei concimi infatti dipende strettamente da quella energetica per vari processi di produzione che non sto a dirvi e poi ci si mette anche lo zio Putin che è il classico zio che al vostro compleanno spegneva le candeline al posto vostro perché ha messo un blocco alle esportazioni di nitrato ammonico e che è un po' un casino diciamocelo. Per darvi un'idea dei rincari se già non ce l'avete già vi basti sapere che l'urea è passata dai 350 euro tonnellata dell'anno scorso ai 700-800 euro tonnellata odierni mentre il fosfato è passato dai 170 ai 330 euro tonnellata ed il potassio dai 450 agli 850 euro tonnellata dei rincari spaventosi direi. E a questi rincari sembra non ci sia una soluzione proprio così attuabile nell'immediato il che mette in seria difficoltà l'agricoltura italiana. La soluzione di Coldiretti per incentivare la produzione nazionale di queste materie prime prima che sia troppo tardi è quella di attivare immediatamente i contratti di filiera che valgono 1.5 miliardi di euro e che sono previsti dal PNRR. In più propone di rinegoziare il debito delle aziende a 25 anni con la garanzia dell'ISMEA roba un po' complicata e che vi lascio approfondire nel link qui sono in descrizione vi lascio tutti i link per approfondire assieme a un agio collegamento che riguarda la cronaca degli ultimi giorni delle ultime proteste di piazza degli agricoltori. Andate giù e leggete insomma noi passiamo alla prossima. Oggi va così si parla di mercati, di economia e di incentivi oggi puntata monotematica economica direi però passiamo alle notizie un po' più positive infatti è stato annunciato un bando per l'applicazione di pannelli fotovoltaici sui tetti delle aziende agricole questo bando dovrà uscire entro il 31 di marzo e fa parte del piano nazionale di ripresa e resilienza grazie a questo piano saranno stanziati 1.5 miliardi di euro per sostenere applicazioni fotovoltaiche per la creazione di energia pulita a zero consumo di suolo infatti il bando prevede l'installazione di questi pannelli fotovoltaici sopra i capannoni e i fabbricati aziendali di aziende agricole, zootecniche e agroindustriali con l'obiettivo di ottenere una superficie totale di 4,3 milioni di metri quadrati che forniranno 0,43 gigawatt per tutti i dettagli e anche su come fare la richiesta vi rimando al link in descrizione finalmente un po' di meccanizzazione perdonatemi ma per questa settimana le cose vanno così le notizie sono queste, non posso farci niente ma vi prometto che la prossima settimana ci saranno molti ma molti più mezzi e trattori infatti riassumeremo i punti salienti di Fiora Agricola 2022 per ora Manitù che presenta una nuova gamma di sollevatori extra light soluzioni piccole, versatili e trasportabili facilmente per ora questa serie comprende due modelli capaci di sollevare rispettivamente 1250 e 1500 kg fino a 4,3 metri d'altezza il tutto con delle dimensioni ridottissime il che permette loro di rimanere sotto la soglia delle 3.5 tonnellate potendo essere trasportati in rimorchi standard anche da semplici furgoni questi mezzi sono motorizzati Yamar con un motore 3 cilindri 1.6 di cilindrata che sviluppa 35 cavalli non eccessivo ma adeguato alla grandezza del mezzo questo motore è controllato da un impianto di trasmissione idrostatica a due marci in avanti e due marci indietro per tutti gli altri dettagli come sempre link in descrizione e niente a me resta solo che augurare a quelli di voi che passeranno per avere una buona fiera noi ci vediamo lì io sarò lì il 2, il 3 e il 4 quindi praticamente oggi probabilmente domani dopo domani e ci si becca in giro poi basta che guardate le storie su Instagram di trattori e si può anche beccarsi in giro volendo per il resto niente vi rimando come sempre a tutti i vari social Instagram di trattori che vi ho già citato Facebook, il sito trattori web molto importante per approfondire tutte le ultime notizie e i miei social agricoltori simpatizzanti sia su YouTube che su Instagram come vi ho portato a questa document grafica ci saranno vari contenuti anche qui su Piaia Agricola quindi ci vediamo la settimana prossima per fare un po' di recap totale della fiara ciao